Gli NFT più costosi della settimana parte 2. Nella top 5 abbiamo questo CryptoPunk, il 784, venduto per 200 Ethereum, che corrispondono a circa 266.000 dollari. Top 4, Other Side, la land delle Bored Ape, esattamente la 49.060, venduta anche questa per 200 Ethereum, che corrispondevano a 279.000 dollari. Sul podio, top 3, Super Rare, quest'opera che si chiama I Feel So Lost, venduta per 227 Ethereum, che corrispondevano a un controvalore di 300.000 dollari. Top 2, iniziamo a salire questo CryptoPunk, esattamente il numero 7273, venduto per ben 370 Ethereum, che corrispondono a circa mezzo milione, 500.000 dollari. E signori, arriviamo alla top 1, con un altro CryptoPunk, esattamente questo qui, il numero 2924, venduto per 3300 Ethereum, che corrispondono in un controvalore in dollari di 4 milioni di dollari. Allora, come il numero 2924, venduto per 3 milioni di dollari.